Musica Buongiorno e benvenuti carissimi telespettatori di Fano TV all'appuntamento consueto del mattino con la lettura dei giornali e la rassegna stampa in diretta delle 7.30 Ben ritrovati Allora cominciamo questo nuovo mese, questa nuova settimana Oggi è lunedì 3 dicembre e vediamo subito il santo del giorno Oggi la chiesa cattolica ricorda San Francesco Saverio Il sole è sorto alle 7.22 e tramonterà alle 16.32 Per quanto riguarda il tempo abbiamo oggi cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso Con deboli piogge sparse soprattutto di notte al primo mattino Le temperature in aumento Mentre per la giornata di domani martedì 4 dicembre Cielo parzialmente nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo Allora ieri hanno inaugurato O meglio, ieri è stato acceso l'albero di Natale In piazza 20 Settembre a Fano Una piazza mai vista così piena Una piazza cremitissima di persone Tanta gente dunque Andiamo a vedere di questo si parla Ma non solo di questo L'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico Apre con la sicurezza fai da te Su due vie pesaresi Che per avere appunto maggiore controllo E maggiore sicurezza Si pagano le telecamere di sorveglianza Le spy cam Accordo con il comune Saranno allacciate alla centrale operativa Delle municipali Dunque fare sicurezza in città Significa sempre di più Fare squadra tra amministrazione comunale e privati Con questa filosofia si sta trasformando Il patto per la sicurezza cittadina Così i condomini dei viali Trento e Trieste E della zona vicina all'Ipercoppa Si pagheranno le telecamere da soli Poi c'è in primo piano La questione del volley Del volley nel senso Quello giocato del mondiale Che si è giocato in Polonia A Cesto Cova Dove la Lube Quindi squadra marchigiana È stata beffata sulla finale Però ha perso contro un fanese Che è l'allenatore del Trento Decisivo l'ex Candellaro Addiva il secondo obiettivo Beffa mondiale firmata Lorenzetti A Cesto Cova Il trentino del coach fanese Stronca Civitanova 3 a 1 E di questo si parla Poi la politica Con Gostoli Che è diventato segretario Con il 70% dei voti Ora dice lui Occorre ricostruire il partito È andata come era Nelle previsioni Il pesarese Gostoli Dunque da ieri Il nuovo segretario regionale Del partito democratico Gostoli Da Sant'Angelo in vado A oggi residente a Tavuglia 36 anni Ha battuto Con il 70% dei voti Dei circa 13 mila voti In regione L'avversario L'ex deputato Fermano Paolo Petrini Senza avversari A Pesaro Gostoli è andato bene a Macerata Stravinto ad Ascoli E addirittura arrivato Primo anche a Fermo Ha vinto il PD Ha detto a caldo Il mio segretario Non in singolo Ora ricostruiamo il partito Non è andata invece bene a Ancona Vimini Elente Olivieri Oggi I nove nomi Della CDA Rassicurazioni anche per i ritardi Nei pagamenti L'assessore dice Poi ci saranno fondi per il museo La cronaca finisce contro una pianta nel bosco Grave Un ciclista Lo vedremo tra poco nelle Cesane Luci, Palloncini e Falene Al via la magia del Natale Siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico Spettacolare accensione dell'albero con la piccola Dele Canta Luca Vagnini Labete donato dalla famiglia Taus La natività artistica curata dai ragazzi Invece della scuola Apolloni Questo è l'albero Quello che troverete in piazza 20 settembre Un momento dell'animazione E poi quest'altro Il vecchio albero Di Seri del Signore Che è stato allestito invece In via Garibaldi Mentre è sotto la pesca Pesca e produttori lanciano la stagione della triglia Il presidente Tonino Giardini Riunisce tutta la filiera Per incentivare il consumo Pioggia E qui siamo sul resto del Carlino Di luce Pioggia di luce su Fano È Natale Piazza 20 settembre gremita Ad accendere l'albero La piccola Adele Migliaia di persone Ieri pomeriggio hanno inondato Piazza 20 settembre Di via del centro Per assistere allo spettacolo Di suoni e luci Che ora illuminano Il Natale più a Fano Tutto iniziato intorno alle 18 e 20 In questa fotografia vedete Il sindaco Massimo Seri Insieme alla piccola Adele E alla nostra Simona Zonghetti Che ha presentato Egregiamente impeccabile La serata di ieri Poi da San Costanzo Festa commossa per Selvino Il 96enne granatiere Di El Alamein Poi oggi 96enne Manoni partì per l'Egitto Con il commilitone Pierleoni di Urbino Dunque è stata emozionante Bella ieri a San Costanzo A casa di Selvino Manoni Appunto questo 96enne L'ultimo dei granatieri Della nostra provincia Premiato dal presidente Provinciale granatieri Amato Borghi Accanto a Borghi Anche Daniele Pierleoni Figlio del compianto Granatiero Urbinate Di Leo Che partì insieme a Manoni Per l'Egitto Per andare a combattere La battaglia di El Alamein Nell'autunno del 1942 Sotto pienone Da record Anche per Candelara Il fondo anticrisi Siamo sempre sulla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Stanziati ulteriori 64 mila euro Accolte così tutte le domande Delle famiglie in difficoltà Ammesse in graduatore Dunque è stato raddoppiato Lo stanziamento Per il fondo anticrisi Deliberato dall'amministrazione di Fano Al fine di soddisfare Tutte le richieste di aiuto Che sono pervenute Dalle famiglie fanesi In difficoltà La decisione arriva In questi giorni Come un gradito regalo Sotto l'albero di Natale Per quanti soffrono ancora Gli effetti Della crisi economica E dunque non arrivano A fine mese Meno infortuni mortali Il merito è anche nostro Il segretario della CNA Bordoni Segnala la maggiore cura Della prevenzione E poi Dalla pagina della Romagna Da Tavuglia Valentino Vince con Morbidelli La 100 chilometri Dei campioni Gara spettacolare Goliardica Nel motor range Di Valentino Rossi Il palio Sul podio Una corona Di salsiccia All'appello hanno Risposto 28 piloti Organizzati in coppie Tanti della VR46 Academy Appunto Di Valentino Rossi Poi vaccini Sempre Dalla Romagna Gabice Mare Il Movimento 5 Stelle Rivendica Un tavolo Di dialogo La capogruppo Banzato Dice Lo convocheremo noi Se non lo farà Il sindaco La pagina Del resto del Carlino L'edizione di Pesaro La fotonotizia Per L'incidente Che è venuto Sulle Cesane Cade Dalla Mountain Bike Ferito Un vigile del fuoco Rocambolesca Operazione di soccorso Da parte dei colleghi E dell'Elli Ambulanza PD regionale Gostoli Segretario In cassa Il 68% Dei voti Va a K.O. Ad Ancona Primarie Battuto Largamente Lo sfidante Petrini Come da previsioni Ma nel capoluogo Prende meno di un terzo Delle preferenze Poi Auditore E Sasso Corvaro Che votano Per l'Unione Il sì Supera Lo scoglio E da Fano a Candelara La bellezza Del Natale E Dalle Cesane Appunto Nelle Cesane Momenti di paura Per Federico Gianotti Era in Mountain Bike Lo vedete in questa fotografia Adesso si trova ricoverato in ospedale Ha 43 anni Ed è stato soccorso A causa di una caduta rovinosa Dalla bicicletta Mentre scendeva Ieri Poco dopo mezzogiorno Un pendio ripido Dal parco Dalle Cesane A velocità elevata La bicicletta Del 43enne Nativo di Urbino Pompiere A Bologna Esperto E premiato Corridore Di mountain bike Appunto Attualmente residente a Pianoro In provincia di Bologna Atterra Quando atterra Alla fine di un salto Impatta con la ruota La radice sporgente Di un albero E si impenna Nella parte posteriore E qui E poi è successo E troverete tutto il racconto Di come è stato soccorso I soccorritori Sono arrivati Nel punto dell'incidente Grazie alle coordinate Del GPS Galuzzi Sono i grillini A doversi dimettere Replica Al Movimento 5 Stelle Il presidente Di Marche Multiservizi Risponde A pentastellati Sulla discarica Di Calucio Da Vale Foglia Invece Corriere Adriatico Anche qui Gestione rifiuti Il format dei 5 Stelle Spazzatura in strada O tariffe salate Galuzzi Vogliono importare Il prototipo Roma Danno errariale Abbiamo fatto risparmiare I cittadini La sentenza del Consiglio di Stato Riguarda un vizio formale Solo strumentalità Poi ancora Dal Corriere Adriatico Urbino Si schianta In bici nel boscolo Tra in salvo L'elicottero Drammatica caduta Alle cesane Di un 43 N in mountain bike Soccorso Con il varicello E poi Sempre dalla pagina Di Urbino Al via Servizi innovativi Per il benessere Dei bambini Il comune di Urbino Partner di Cos Marche Per laboratori E corsi Valle del Cesano Vincono i tribunale Obal Ora Tournée internazionale Il gruppo di Marotta È il titolo originale Band Dell'European Music Contest Ruggeri invece Il cantautore Enrico Ruggeri Registra Un video A Marotta Il cantautore Ha incontrato La giunta Per definire Nuovi progetti Artistici Tre giorni Per riabbracciare Quel mare Che lo ha ispirato Il famoso Ha ispirato La famosa canzone Il mare d'inverno La pagina di Senigallia La prima mezz'ora Di soste gratis Centro e stadio Con tariffe diverse Domani la proposta Di bilancio A proda in commissione Previste agevolazioni Per le festività natalizie Poi sotto SOS furti Negozi Appartamento Nel Mirino Colpo riuscito Sul corso Blitz falliti Da furci Non E in uno studio Medico Mentre lo sport Dicevamo La pallavolo Per Lorenzo Lorenzetti Il fanese Tecnico Del Trento Primo trionfo Internazionale La bella favola Del coach Marchigiano Che ha guidato Trento Angelo Ha vinto tanto E molto spesso Partendo Da sfavorito E l'altra pagina Lube Un'altra finale Persa Secondo obiettivo Fallito in stagione Per la squadra Di Medei Favorita Ma sconfitta Sul campo La rivincita Degli ex Candellaro E Grebenivkov Sul tetto Del mondo Con il fanese Appunto Lorenzetti Sokolov Simon Ultimi Ad arrendersi Nella squadra Del Lube Poi La pagina L'ultima pagina Del Corea Adriatico Sempre di pallavolo Ma questa volta Di serie A2 La Golden Plast Potenza Picena Combatte Ma il mondo V non fa sconti Perde dunque 3-0 Partite equilibrate In avvio Poi i piemontesi Allungano e chiudono Senza problemi Partita Che potrete vedere Questa serie A stampa Come tutte le mattine Alle 18.30 Oggi pomeriggio Avremo di nuovo L'appuntamento Con Babbo Natale Un programma Per bambini Che sta avendo Un successo Al di là Di ogni aspettativa E devo dire Non solo Nel nostro territorio Ma Babbo Natale Essendo in tutto il mondo Sta attirando l'attenzione Sta facendo divertire Anche i bambini Tanti bambini Della Regione Marche Che seguono Il nostro canale Alle 18.30 Tantissime le telefonate Pensate In tre giorni Tre giorni Di diretta Abbiamo ricevuto Più di Quasi 100 telefonate Quindi un po' Da tutta la Regione Davvero grazie Poi 20.30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia 20.45 Che tempo farà Le previsioni del tempo Con i comici Del San Costanzo Show Jeffrey Di Bartolomeo Giovanni Giangiacomi E poi Con il tenente Flavio Vento Naturalmente Poi alle 21 In diretta Primo cittadino Questa sera ci sarà Antonio Sebastianelli Il sindaco Di Terre Roveresche Con In studio Simona Zonghetti E poi come abbiamo detto Lo sport Con la Serie A2 Di Volley Io mi fermo qui Grazie per essere stati con noi Buona giornata a tutti E a stasera Grazie per aver guardato il video